Confermato lo sciopero di 48 ore dei tassisti in tutta Italia il 5 e il 6 luglio, lo hanno annunciato in coro le 14 sigle sindacali di categoria contro l'articolo 10 del DDL concorrenza, previsto nelle prossime ore l'ennesimo tentativo di mediazione in Estremis da parte del vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti Teresa Belanova, ma i tassisti appaiono irremovibili. Per i sindacati è una battaglia a difesa di oltre 40.000 posti di lavoro contro la liberalizzazione delle licenze, le speculazioni e i meccanismi come algoritmi e piattaforme web. Grazie a tutti.